Musica Mercoledì 4 gennaio amici di Unica Channel, buongiorno e bentrovati all'edizione Flash del nostro telegiornale. Apriamo con la politica. Il presidente del Consiglio Mario Monti è pronto per la fase 2 del governo e resta orientato ad incontri bilaterali per discutere sulla riforma del mercato del lavoro, ma scatta il no da parte dei sindacati. La leader della CGL Susanna Camusso non vuole trattative separate. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano dice che gli ammortizzatori sociali dovranno essere rivisti. Ed è polemica ancora sulle retribuzioni dei parlamentari italiani. Oltre 16 mila euro al mese sono gli stipendi più alti d'Europa. E passiamo alla cronaca. Ad Ostia, in provincia di Roma, tre rumeni sono stati colti in fragranza dalla polizia mentre violentavano una donna polacca di 33 anni. Due sono stati arrestati mentre un terzo denunciato. L'accusa è di violenza sessuale di gruppo. E andiamo a Napoli. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano, dopo l'incontro con il sindaco Luigi De Magistris, dice ai tanti napoletani che l'hanno accolto fuori al Gambrinus, vedo fiducia ai tanti progetti. Napoli ce la farà. E passiamo all'estero. Si aperta ufficialmente la campagna elettorale per le presidenziali americane. Voto in Iova. Romney vince per un pugno di voti. Solo otto preferenze di scarto. Incredibile testa a testa con l'italo-americano Rick Santorum. Ora il prossimo appuntamento è previsto per le primarie del 10 gennaio. E passiamo allo sport. Dopo la pausa natalizia, alla vigilia delle partite chiave della stagione, gli azzurri iniziano a riscaldarsi. Nonostante il riposo forzato di Lavezzi, ora si attende di vedere giocare il nuovo arrivo dal Cile, Edu Vargas. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 15.30 con il nostro telegiornale completo. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata.